Buonasera, siamo di nuovo su Apogeo Live, incontri con gli autori dei nostri libri, i docenti dei nostri corsi. Oggi il nostro ospite graditissimo è Simone Adiprandi, che è autore... Buonasera a tutti, buonasera. Ciao Simone, autore Apogeo di lunga data, articolista Apogeo di lunga data, è corsista anche Apogeo, poi più tardi parleremo del suo corso e avremo anche un codice sconto per chi vorrà iscriversi a condizioni agevolate. Il tema di oggi è non voglio farmi rubare le idee sui social, perché Simone, ma adesso ve lo racconta lui, è un esperto, è un avvocato, si occupa di questioni legate al copyright, però per nostra fortuna è anche un eccellente relatore, speaker, personaggio televisivo social e quindi con grande piacere e con grande sollievo che lo invito a presentarsi, dire qualcosa di sé in pochi minuti e poi cominciamo a entrare nel vivo, anche perché ci sono notizie di stretta attualità, per cui oggi di cose da parlare ne abbiamo. Ah, che dire, di me hai già detto un po', insomma, nel senso io sono un avvocato, vengo da una formazione un po' strana, un po' ibrida, perché pur avendo il classico percorso dell'avvocato, quindi laurea in giurisprudenza e praticantato, esame di Stato, poi ho fatto anche un percorso parallelo, c'è una seconda laurea in scienza della pubblica amministrazione e un dottorato di ricerca in società dell'informazione, che era un dottorato, era, parlo al passato perché questo dottorato adesso non c'è più, però era un dottorato molto interessante che c'era a Milano Bicocca, diciamo trasversale su tutti i temi legati al digitale, alla sfida della società dell'informazione. Io mi ero occupato, vabbè, della percezione sociale che si ha proprio del fenomeno del copyright e del diritto d'autore nel mondo digitale. E niente, mi sono sempre occupato, fin dagli anni della laurea, quindi dal 2002-2003, che mi sono laureato nel 2003, e ho iniziato a scrivere la tese, diciamo, alla fine del 2002, di diritto d'autore, di copyright, con un approccio un po' alternativo, un po' open, no? Nel senso che mi sono avvicinato a quella materia, prendendola dal lato oscuro o chiaro della forza, non so, a seconda dei gusti, però, dal punto di vista. E poi sono arrivato a parlarne invece in modo più mainstream, più classico, come sto facendo in questi ultimi anni. Faccio attività di consulenza, di formazione. Consulenza vuol dire, insomma, assistere case editrici, oppure autori, oppure biblioteche, archivi, gente che deve digitalizzare contenuti, singole persone che hanno curiosità sui loro diritti d'autore, perché hanno avuto un problema con, non so, una fotografia, oppure un libro che hanno scritto. E la formazione è cosa tipo quella di cui parliamo oggi, cioè un incontro tipo questo, ma magari invece che in forma di intervista chiacchierata, un po' più formale, un po' più cattedratico, con le slide, che è quello appunto che stiamo proponendo per la prossima settimana, ad esempio. Ne faccio tanti, di cose del genere. Adesso che poi ci siamo spostati tutti sull'online, risulta anche più facile farle. E ho anche un corso universitario mio all'ISIA di Firenze, una scuola superiore, un'università, diciamo, di design, un'accademia di design, in cui ovviamente io mi occupo della parte sulla proprietà intellettuale. Mi fermo prima che tu mi spedisca il curriculum in formato europeo. E invece volevo fare un commento sull'attualità e sulla pertinenza della materia copyright a chi come noi magari un po' si occupa, ma poi soprattutto molto vive sui social, dove sembra che il tema della riproducibilità o dei permessi sia qualcosa su cui si passa tranquillamente sopra e che la materia sia ancorata alla vecchia carta, ai vecchi media, morta, ammuffita e si trascini per qualche misterioso motivo. Invece c'è attualità, succedono cose ed è tutto costantemente in discussione. Si sta lavorando a nuove regolamentazioni su copyright e questo, se non sbaglio, aveva una ricaduta anche in una notizia proprio di oggi. La notizia di oggi è che, giusto per farla breve, la direttiva europea nuova sul copyright approvata nel 2019 doveva essere, per chi non è del settore, le direttive europee hanno poi bisogno di una legge nazionale che importa e applica concretamente nell'ordinamento locale e nell'ordinamento nazionale i principi della direttiva. Questo doveva avvenire, secondo la direttiva, entro il 7 di giugno di quest'anno. Circa due anni di tempo per fare questa normativa. L'esilisatore italiano è sempre quello più lento, uno dei più lenti, arriva sempre al pelo della scadenza o addirittura la bucca, la scadenza, finché non arriva l'Unione Europea che tira le orecchie e dice attenzione, se non ti sbrighi ti mettiamo in procedura di infrazione, che è un po' la punizione che viene data allo Stato membro che non sta ai tempi. E noi siamo arrivati esattamente lì, quindi siamo già in ritardo. Arrivato ad agosto in periodo di ferie, perché era il 5 di agosto, il testo di questo decreto attuativo della direttiva già approvato dal Consiglio dei Ministri e quindi sono iniziate a circolare le bozze, io stesso ho fatto dei post, dei commenti. Poi ovviamente tutto è stato risucchiato nel buco nero di agosto, per cui se ne è dimenticati fino a circa i primi di settembre, adesso ci siamo un attimo ripresi a parlarne per scoprire che oggi è arrivato il parere della AGCM, cioè l'Antitrust, Autorità Garante Conferenza Mercato, che è il nostro appunto authority sull'Antitrust, che dice che questo testo è fallace su tanti piani e che quindi dà parere negativo. E ergo, insomma, è vero che il governo potrebbe tirare diritto e dire, però insomma, non considerare un parere come quello la vedo un po' difficile. Terran arrivati altri pareri negativi, diciamo dagli esperti del settore, dai professori, da gente, da associazioni. Io ne ho diffuso uno di Isaac, l'Associazione Italiana Scienza Aperta. Insomma, non è stato proprio trasparente questo processo di redazione del decreto. Fatto anche in estate, in un periodo delicato come quello della pandemia, è passato ancora più, insomma, un po' nella nebbia e adesso magicamente qualcuno ha cominciato a metterci la testa seriamente e si sono accorti che si poteva fare meglio. Capisco, allora, non perché voglio spezzare l'ance, capisco che la materia è delicatissima, è molto, molto scivolosa. E su quello che dicevi tu, il fatto che sembra una cosa morta, ma in realtà c'è vita. Sì, è vero, c'è vita, però è sempre in ritardo, nel senso che, al di là di questo ritardo tipico dell'esercitatore italiano, ma è sempre un ritardo. Cioè, questa materia qua purtroppo sfugge, perché davvero è legata a doppio filo con l'evoluzione tecnologica e con le nuove modalità di distribuzione e fruizione delle opere creative. E quindi già una dirittiva del 2019, che sono due anni fa, in realtà alcune cose che sono arrivate in questi ultimi due anni magari non le aveva pensate. Ad esempio la pandemia non l'aveva pensata, no? Cioè, il legislatore europeo del 2019, non si poteva immaginare il boost che abbiamo avuto con la pandemia ai vari corsi online, videoconferenze, no? E tutte le varie attività, le letture online. L'anno scorso mi hanno chiesto di fare un chiarimento sulle letture di libri online, sui social, se violavano il diritto d'autore. Cosa che fino a un mese prima della pandemia nessuno si poneva come problema, no? E quindi effettivamente per un legislatore è seriamente difficile e complicato riuscire a tenere il passo. Per di più, se ci aggiungiamo del nostro, se ci perdiamo anche i mesi, così. Quindi vuol dire che continueranno a rubarci le idee sui social. A parte che tu, da bravo avvocato, hai trovato la fallaccia anche nel nostro titolo. Aveva il titolo. E ci hai rampognato duramente. No, vabbè, il titolo era già nato così, volutamente, con questa provocazione interna del fatto che ovviamente non si può usare la parola rubare. Un giurista potrebbe inorridire per l'utilizzo della parola rubare legata a una cosa astratta come l'idea. Quindi, diciamo, in quel titolo ci sono degli errori concettuali, ma era volutamente fatto così per creare un po' di, appunto, provocatorio, per creare un po' di curiosità. Perché, appunto, rubare tecnicamente non si ruba un'idea. E, tra l'altro, il copyright non si occupa nemmeno delle idee astratte. Abbiamo fatto un articolo, insomma, probabilmente uno degli articoli più letti della mia lunga serie per appoggio di qualche anno fa. E probabilmente, se cercate con Google, viene ancora ben indicizzato quell'articolo. che, appunto, il copyright non si applica alle idee in sé, alle idee astratte. Si occupa, si applica alle opere creative. Quindi non è tanto l'idea, ma è come io ho sviluppato quest'idea in una forma tangibile di opera, che può essere un libro, un romanzo, un manuale, un software, una banca dati, una fotografia, un film, una sceneggiatura. Non lo so, qualsiasi cosa che comunque comincia ad assumere una forma di idea estrinsecata con un minimo di carattere creativo. Quello, allora, sì, comincia ad andare a toccare il terreno del diritto d'autore. Che poi è la punta di un iceberg, perché il diritto d'autore poi si porta dietro, tutela dei brand, concorrenza, brevetti. Esatto. Allora, se l'esigenza del creativo è quella appunto di tutelare l'idea, cioè di una cosa, tutelare una cosa che è ancora astratta, cioè non si è ancora, non ha preso ancora una forma precisa, allora forse possiamo far leva su altre forme di tutela, altri istituti giuridici, diremmo tecnicamente, previsti dal cosiddetto diritto della proprietà intellettuale, che non sono necessariamente diritto d'autore. cioè, allora, per eccellenza, se la forza della tua idea sta proprio nell'innovazione che l'idea intrinseca ha, la cosa migliore che posso fare, ad esempio, è non dire a nessuno questa idea. Cioè, non so che sembra banale, però, cioè, se la mia forza sta proprio tutta lì, io devo tenermela il più possibile segreta, quella idea, finché almeno non è diventata, non ha preso una forma per cui posso applicarci un altro tipo di tutela. E quindi ci sono degli strumenti che la legge ha già escogitato, oppure la prassi contrattuale ha escogitato, per tenere sotto chiave un'informazione. Ad esempio, gli accordi, non so, se tu diventi dirigente di una grande azienda di informatica, della tecnologia, è chiaro che viene a conoscere una serie di informazioni strategiche fondamentali che hanno un valore commerciale mostruoso e quindi non puoi andare a cena con gli amici davanti a una birra e spiattellare tutte queste cose perché magari gli amici sono in buona fede ma c'è anche quello che poi fa il post e lo dice ah, ho parlato con un tizio, un mio amico che lavora ad Apple, mi ha detto che fra un mese esce un nuovo... Insomma, quindi cosa succede? Vincoli i tuoi dipendenti, azienda, l'azienda che ha questa esigenza, vincola i suoi dipendenti con un accordo di non divulgazione. Quindi se diventi una persona di spicco in una di queste aziende, a volte nemmeno senza diventare tanto in alto nella gerarchia, però ti chiedono di firmare un impegno a startene bello zitto, a non dire alcune cose, nemmeno nella cerchia familiare in realtà a volte. Poi non so se questa è proprio l'esigenza del social media manager che è probabilmente il target più più classico di un corso, di una discussione come quella di oggi. Quello che fa le foto, che fa i post per Instagram per un suo cliente o per se stesso. Lì forse non siamo su quel piano, però ecco, se la forza sta proprio nell'idea e non è ancora stata estrinsecata, forse è buona norma, è un buon consiglio non è iniziare a non dirla troppo in giro. Ecco. Scusa se ti interrompo, c'è qualche social media manager o qualche persona che lavora postando cose su Instagram che ci sta ascoltando e allora ricordo che possiamo tranquillamente tutti fare domande a Simone. Prego tutti di usare la chat dopodiché io mi tengo il piccolo privilegio di poter continuare a domandare cose a Simone tramite il video. A chi ci ascolta chiedo di farlo via chat e io avrò cura di passare a Simone tutte le domande. Avete già capito che lui non vede l'ora di rispondere a qualsiasi tipo di domanda sul copyright che quando si accende poi diventa difficile fermarlo quindi l'occasione è davvero è davvero ghiotta. Io però prima di scendere su dettagli, aspetti, cavigli, eccetera, eccetera gli chiederei a livello un pochino più generale anche superficiale ma per inquadrare inizialmente l'argomento che cosa significa per il copyright la legislazione sul copyright l'esistenza dei social media e in generale della rete perché si parla tanto di riforma di questioni che cosa c'è che non funziona più in quella che era la legislazione originale in quello che era il concetto di copyright. Ecco, bravo. Io partirei proprio dal concetto che è semplice la questione si risponde alla domanda facendo un ragionamento sull'etimologia della parola copyright copyright è il diritto di fare copie poi in realtà noi lo chiamiamo in un altro modo che è diritto d'autore che è infatti più neutro e più ampio come concetto gli anglosassoni dicono copyright è il diritto di fare copie ed è un istituto giuridico appunto che si è è nato primi del 1700 e poi si è sviluppato per tre secoli fino ad arrivare ai giorni nostri e qual è il problema? Il problema è che diciamo questa evoluzione di tre secoli è stata sempre basata sul concetto di copyright di fare copie fino ad arrivare in un mondo in cui in realtà le copie non si fanno più no? Siamo nell'era dell'accesso non tanto della distribuzione di copie quindi la gente accede a dei contenuti che stanno in un posto che però non ci interessa bene dove stanno no? Basta che quando ci colleghiamo possiamo ascoltare la canzone X o vedere il film Y o leggere l'ebook Z e quindi già quello insomma pone delle questioni no? Cioè se non siamo più su un piano di creazione di copie distribuzione di copie e vendita compra vendita di copie su che piano siamo? Siamo sul piano appunto del accesso alla rete accesso al contenuto tramite la rete ormai la rete ce l'abbiamo tutti no? Diamo per scontato che la connessione internet sia sia alla portata di tutti tutti abbiano le conoscenze per farlo ed è in effetti quello che sta succedendo in questi ultimi questi ultimi anni cioè tutti abbiamo in tasca un aggeggio che ha un costo no? accessibile è vero che ci sono quelli da 1500 euro ma ci sono anche quelli da 100 euro che si possono permettere insomma buona parte delle persone dei paesi industrializzati e che però tutti hanno le funzioni di accesso alla rete e di accesso a tutti i vari le varie app e contenuti che ci sono ma non solo hanno anche il tastino share hanno il tastino condividi quindi un'arma a doppio taglio non solo questo nuovo mondo è fatto di persone che possono accedere ai contenuti con massima libertà e massima facilità ma anche possono anche questi contenuti replicarli ricondividerli con un passaggio che a volte è talmente veloce è talmente semplice che non ti pone non ti mette nemmeno non ti spinge nemmeno a pensare se lo puoi fare davvero quello è non ti sento più sei mutato ecco ti eccomi problemi di scocciatoio di tastiera dicevo abbiamo già una domanda infatti che comincia ad affondare il coltello dove fa più male la domanda è di Aimi che chiede è possibile tutelare gli articoli di un blog oppure le foto fatte da noi per Instagram o Facebook il commento è il plagio è all'ordine del giorno come non dargli torto che risposte possiamo dare oggi bisogna capire un po' il senso generale della domanda io la inquadrerei così se la domanda è ho un diritto d'autore su questi contenuti fatti da me la risposta è assolutamente sì perché il diritto d'autore non è riservato solo alle sfere alte della creatività ma è richiesto un minimo livello di creatività e quindi è chiaro che se l'articolo del blog è il copia e incolla o quantomeno è la parafrasi di un articolo che io ho letto da un'altra parte avrò un bassissimo livello di creatività e quindi difficilmente accedo alla tutela del diritto d'autore se invece è farina del mio sacco al di là che sia di alta qualità o di bassa qualità quali sono valutazioni a parte il diritto d'autore richiede che ci sia un'attività intellettuale creativa e quindi la fotografia e l'articolo fatti per il blog hanno una tutela prevista dal copyright se poi la domanda è come faccio davvero a tutelarli nel senso che ok che ho il copyright però poi se di questo copyright la gente se ne infischia bellamente e ne fa qualsiasi qualsiasi uso senza chiedermi il permesso io cosa cosa no cosa me ne faccio di avere di avere la cd di copyright e poter dire ho il copyright se poi davvero effettivamente non c'è rispetto di questa regola generale questo è un altro piano lo capisco se c'è una violazione purtroppo i giri non è che sono tanti ci sono degli strumenti la legge storicamente è previsto degli strumenti per diciamo tutelarsi quando un tuo diritto è stato è stato violato l'estrema l'estrema razza è fare causa andare dall'avvocato e fare causa al soggetto che ha violato questo diritto prima di arrivare a quel livello magari ci sono degli step intermedi che possiamo che possiamo tentare e normalmente il primo step a cui io come dire che suggerisco è quello di rivolgersi al service provider cioè al gestore della piattaforma che in teoria dovrebbe avere messo in piedi un sistema di controllo anche legato al rispetto del diritto d'autore le principali piattaforme lo fanno e quindi se trovo un mio brano musicale su youtube senza che io abbia consentito questo dovrei poter fare la segnalazione e dire a youtube cioè a google attenzione questo brano è stato caricato da mario78 ma questo mario78 non sono io quindi non dovrebbe esserci questo contenuto per favore toglimelo e normalmente il service provider se è serio e ha appunto messo in piedi una struttura di controllo di quel tipo interviene e rimuove certo voi direte ma sì però intanto intanto la gente se l'è guardato o se se l'è ascoltato quel brano e non mi ha dato nulla è vero ecco quello allora lì siamo sul piano del andare dall'avvocato e chiedere il risarcimento del danno ecco se vogliamo anche arrivare a quello purtroppo non ci sono tanti altri tanti altri modi ecco eviterei di chiamare i carabinieri nel senso quasi sempre il diritto d'autore almeno negli esempi che stiamo facendo adesso è più una questione civile ecco una questione di eventuale danno causato che io devo in qualche modo evitare e interrompere diciamo e farmi risarcire chiamare i carabinieri non è ecco la soluzione poi ci sono situazioni in cui il diritto d'autore ha anche una rilevanza penale però sono forse su dei piani un po' più alti abbiamo capito che il tuo pseudonimo preferito per succhiare dati agli spettatori regnari e mario 78 quindi state attenti esatto mario 78 sono io intanto però fioccano le domande quindi battute a parte cerchiamo di accontentare tutti per quanto possibile Walter chiede il tuo punto di vista riguardo alla tutelabilità e ai diritti di sfruttamento dell'opera creativa generata da un'intelligenza artificiale Walter commenta pare che il WIPO ne abbia messa la tutelabilità ma capisco poco bene in che termini e allora è una domanda molto avanzata ammetto è più un dibattito da dottorato di ricerca in improprietà intellettuale però cerchiamo di renderla semplice per tutti allora il diritto d'autore se lo chiamiamo appunto all'italiana alla francese cioè il diritto d'autore ha già in sé un concetto fondamentale è un diritto dell'autore cioè di una persona che di lavoro crea no? che di lavoro o quantomeno che ha un'attività creativa e che quindi ha creato quest'opera e quindi è un diritto che squisitamente è nelle mani di una persona di un essere umano e la domanda qua è ma può un'opera che è stata creata da una macchina avere un diritto d'autore se il principio generale è che il diritto d'autore appartiene sempre quasi sempre a un essere umano e soprattutto di chi è il copyright su un'opera cioè visto che è software sostanzialmente che crea queste queste opere quindi un'intelligenza artificiale altro non è che un software di chi è il diritto d'autore su l'opera creata da un software di colui che ha creato il software oppure di colui che ha impartito delle istruzioni al software per poi creare questa questa opera opera creativa oppure di nessuno dei due e quindi questo è un po' il dibattito che c'è che c'è in corso è un po' sembra un po' non so se ti ricordi avevamo fatto un articolo su le opere create dagli animali ti ricordi la questione del un articolo di cui avevamo parlato perché c'era un'opera creata una fotografia il selfie della scimmia il selfie del scimpanseo questa scimmia che si è scattata una foto ovviamente non consapevole di quello che stava facendo ma perché si è messo a giocare con la macchina fotografica si è scattato il selfie ed era equiparabile a quello che succede con gli elefanti che fanno i quadri sai che c'è anche questa di chi è il copyright del padrone dell'elefante oppure di colui che ha messo i colori giù per terra l'elefante quindi gli ha già dato delle informazioni per poi dipingere di colui che ha destrato l'elefante a fare sta cosa di nessuno perché lì la questione si risolve molto semplicemente perché c'è un articolo del copyright act americano che diceva in quel caso che gli animali non sono titolari di diritto d'autore non possono essere titolari di diritto d'autore quindi punto l'opera fatta da un elefante non è di nessuno è automaticamente in pubblico dominio perché non è un vero atto creativo cioè l'elefante non sa che sta creando un'opera tutelabile dal diritto d'autore non è conscio e poi non può essere titolare di diritti di quei diritti di tanto meno e quindi e quindi la questione lì si è risolta adesso arriva tutta l'onda dell'intelligenza artificiale ci si accorge che un software in realtà impostato in un certo modo può prendere un'iniziativa e creare delle opere lo stiamo vedendo ahimè nel nostro lavoro anche di scrittori soprattutto di autori di articoli di cronaca ci sono degli articoli di cronaca che sono scritti da dei software e ti assicuro che fai fatica a distinguere quello scritto dal giornalista di cronaca perché a volte sono dei canovacci standard per cui ieri c'è stata la partita della squadra locale di calcio l'arbitro era quindi tu gli dai le informazioni di base ma l'articolo poi te lo scrive lui oppure le informazioni di base se le va a cercare da solo le informazioni di base le va a cercare nei database degli arbitri i database delle partite i giocatori che hanno giocato quelli che hanno segnato e ti tira fuori un articolo che ti racconta cosa è successo nella partita della serie D o della serie C e lì ovviamente questo porta via lavoro ai giornalisti sportivi locali che prima magari si pigliavano quei 15 euro d'articolo 20 euro d'articolo per andare a seguire la squadretta è un problema che effettivamente si pone però ecco la risposta è vero la WIPO la WIPO è l'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale tradotto dall'acronimo dall'inglese all'italiano ha riconosciuto però ad alcune condizioni una tutelabilità delle opere create dall'intelligenza artificiale posso consigliarvi un libro che è interessante dalla professoressa Laura Chimienti che è proprio mi sembra che l'intelligenza artificiale crea punto di domanda cioè il titolo del libro è quello cioè l'intelligenza artificiale fa un atto creativo oppure è solo puro software che mette insieme dei pezzi lascio aperto l'interrogativo perché probabilmente non saprei nemmeno rispondere dovrei studiarmi la questione torniamo allora all'intelligenza naturale con la domanda di Mitia che chiede sono un accompagnatore turistico e ho fatto registrare il mio marchio presso il tribunale mi avvalgo per promuovere le tappe dei miei tour di due agenzie di social media manager come posso difendermi dagli altri operatori del turismo allora non sono sicuro di aver capito proprio bene la domanda poi mi suona scusa scusa Simone Mitia aggiunge se mando i miei tour via email alle varie agenzie di viaggi e tour operator come posso difendermi ah ecco ok inoltre i miei tour e non solo sono anche su una app cosa posso fare per tutelare il mio lavoro allora beh interessante premessa che il discorso del marchio forse qua rimane un po' parallelo e anche mi sembra anche strano che sia registrato presso il tribunale perché in realtà si registra il marchio più che altro presso la camera di commercio che fa da tramite presso l'ufficio brevetti marchi italiano comunque il marchio è una cosa cioè il marchio serve per dire che quel prodotto viene dal che uno specifico prodotto proviene prodotto o servizio proviene da uno specifico produttore quindi serve per distinguere i prodotti sul mercato e quindi lui avendo registrato il marchio effettivamente ha rafforzato la sua posizione facendo cercando di dire insomma questa cosa qui c'è scritto che viene da l'azienda Niuco.srl e quindi cerca di creare una fidelizzazione cercare di distinguersi anche non so con la grafica con lo stile col sito fatto in un certo modo quello è branding il discorso che la domanda che fa lui secondo me è più invece appunto sul piano del copyright e della tutela delle idee perché dice se io la mia attività di organizzatore di escursioni sta proprio nel non so mettere insieme una serie di tappe che 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 poi che poi mi portano a organizzare l'evento quindi la gente viene sul mio sito vede che se viene se compra da me il biglietto se compra da me il biglietto vedrà questa chiesa questa piazza questa e quindi la sua originalità sta nel giro che ha creato ecco bisogna capire se è sufficientemente originale per poter vantare una tutela di diritto d'autore perché cioè se io organizzo un tour di roma in una giornata posso chiamarmi nuco o coca cola company ma tendenzialmente le tappe saranno colosseo foro imperiali cioè saranno più o meno uguali per tutti quindi come fai a dire cioè come fai a sostenere che quelle tappe quel giro l'hai per primo messo giù tu e vuoi tra l'altro vietare agli altri di fare una cosa simile secondo me qua siamo un po' al limite siamo un po' all'eccesso cioè il diritto d'autore non arriva a fare a tutelare così tanto lì siamo proprio sul piano della tutela delle idee cioè ho avuto l'idea di andare a visitare invece che il Colosseo andiamo a visitare un sotterraneo di un palazzo che non visita nessuno è ok però non puoi comunque vietare ad un altro di andare a visitare lo stesso di andare a visitare lo stesso sotterraneo e di pubblicizzare questa attività quindi su quella la vedo dura sul discorso del branding dello stile dell'approccio quello sì si può lavorare assolutamente sei andato ancora a mute probabilmente è un dopo un po' di tempo che parlo solo io automaticamente ti spegne ecco probabilmente sì è un o forse un bug di zoom perché mi sono impostato per poter riprendere con lo spazio ma ogni tanto non si riprende anyway Federica dicevo scrive però se noi condividiamo qualcosa nei nostri canali social e a questi vi sono annessi i loghi com'è possibile rubare e nella condivisione comunque risulta e quello incrementa comunque le visualizzazioni e quindi va a vantaggio di chi ha condiviso inizialmente o sbaglio eh no allora ho capito cosa dice cioè dice se nei contenuti che io ho preso senza chiedere il permesso quindi in teoria violando il diritto d'autore però lascio il logo quindi faccio capire che viene da quello là e quindi gli sto facendo un favore non lo sto violando è vero questo in ottica diciamo di strategia commerciale ma in ottica copyright non funziona così cioè io non lo so se davvero lui gradisce si si presuppone che lui gradisca ok è vero in alcuni casi è palese e nessuno potrebbe lamentare una violazione di copyright esempio faccio recensione di un libro nessun editore sarebbe così pazzo da andare di copyright di avvocato che tutela il copyright per dire che quella recensione ha violato il diritto d'autore non ha minimamente senso perché una recensione è comunque un'attività di promozione del libro anche se le recensioni dicono magari cose brutte cose non piacevoli però intanto se ne parla e poi c'è un discorso di libertà di espressione per cui non devo chiedere il permesso a nessuno per fare la recensione di un libro che è stato pubblicato tantomeno posso e tra l'altro posso anche pubblicare la copertina per far vedere che sto parlando di quel libro quindi non c'è neanche un problema di copyright sulla copertina o di brand dell'editore perché io per dire che ho fatto la recensione di quel libro devo dire che quel libro è stato pubblicato da Apogeo Editore quindi sto usando il marchio in una forma descrittiva non sto sfruttando non sto facendo finta di essere io Apogeo e quindi non sto violando il marchio cioè non sto creando confusione sulla provenienza del prodotto però ecco per dire che non basta nel caso che ha fatto che ha posto la nostra ascoltatrice non basta lasciare il nome e dire ah vabbè ma tanto vi sto facendo un favore perché non lo sappiamo davvero se l'altra parte gradisce la regola generale nel diritto d'autore è che io debba chiedere il permesso prima poi ripeto ci sono dei margini di libera di azione per cui cosiddette eccezioni al diritto d'autore o libera utilizzazione per cui posso muovermi con una certa tranquillità senza dover chiedere il permesso cioè non è che tutte le cose che faccio devono essere sempre autorizzate in carta bollata però devo vedere il singolo caso cioè se io mi parassito scusate la parola un po' eccessiva all'account Instagram di un altro e continuo a prendere i contenuti non è che è sufficiente dire ah ma io gli sto facendo gli sto facendo pubblicità quindi perché si dovrebbe arrabbiare allora dice come io mi faccio tutto il lavoro di creazione dei contenuti tu te li prendi li porti di là forse un po' troppo grazie se ogni tanto mi fai un post e lo prendi va bene ma se comincia su un'attività sistematica si pone sia un problema di diritto d'autore anche forse un problema di concorrenza sleale se i due soggetti sono diciamo in diretta concorrenza guarda c'è un commento di Attilio che casca proprio a fagiolo non è una domanda ma un commento e dice la differenza fondamentale è tra poter fare e il diritto a fare sì stiamo un po' su stiamo giocando un po' di parole io sono meno filosofo e più giurista su queste cose il diritto dice che in alcuni casi in effetti puoi fare senza dover chiedere il permesso questo lo dice chiaramente purtroppo non possiamo in questa sede fare la lezione sull'eccezione di diritto d'autore anzi sono esattamente oggetto del corso che faremo la prossima settimana quindi non posso bruciarmela così però sì se andate a parte che ci sono un po' di slide me e di altri corsi se vi interessa vedete che ci sono una serie di situazioni in cui possiamo utilizzare le opere degli altri senza dover chiedere il permesso sono però vi assicuro molte meno di quelle che normalmente si pensano cioè purtroppo l'uomo della strada pensa che se una cosa è su internet vuol dire che allora si può usare perché se no uno non la metteva proprio su internet eh no non funziona esattamente così punto primo e punto secondo se una cosa io la trovo su internet non è detto che su internet ce l'abbia messa davvero il titolare dei diritti magari a sua volta è stata messa da qualcuno che non aveva chiesto il permesso quindi non sto facendo altro che perpetuare un errore fatto da un altro precedentemente precedentemente al mio quindi bisogna stare attenti ecco perché poi quando siamo dall'altra parte ci accorgiamo cioè tutti spesso a quelli che dicono beh ma io prendo liberamente chiedo ma se la gente lo facesse con i tuoi contenuti come ti porresti e ve lo dice uno io sai che sono open io sono il primo a dire usate i miei contenuti però lo faccio consapevolmente anche perché comunque internet è così articolata che si può raggiungere un livello di finezza e di granularità pressoché infinità che complica le cose senti per esempio Laura rimanendo su Facebook c'è differenza tra un contenuto pubblicato su una pagina rispetto al diario personale? Eh bella domanda nel senso che ma allora più che pagina e profilo personale guarderei se il contenuto ha sai che allora Facebook la chiama livelli di privacy no? cioè rivolto a tutti aperto a tutti solo amici solo alcuni gruppi di amici oppure solo solo persone specifiche e quindi io guarderei più che altro quello cioè al di là che sia su una pagina pubblica o su un profilo privato guarderei se quel contenuto è stato dal suo titolare pubblicato verso un pubblico indefinito se è pubblicato a tutti probabilmente posso come dire dedurre che gradisca che venga diffuso però un conto è se io diffondo il link cioè se io diffondo il suo contenuto semplicemente facendo il tasto condividi che la piattaforma mi mette a disposizione che non è la stessa cosa di prenderlo scaricarlo e caricarlo dall'altra parte no questo è il passaggio che vorrei far arrivare cioè un conto è andare sul contenuto e dire io non faccio altro che replicare è un deep linking un embedding e questo qual è la differenza è che facendo così lascio il controllo a lui cioè lui può sempre decidere di spegnere il giochino dire ok lo voglio togliere quindi lui lo toglie e scompara da tutte le altre le altre pagine o profili in cui è comparso se io lo scarico e lo ricarico ovviamente gli ho tolto gli ho tolto il controllo e ho caricato sulla piattaforma una cosa che in teoria non avevo il diritto di caricare perché non è mia e questo i termini d'uso i termini d'uso di Facebook lo dicono chiaramente cioè tu non puoi caricare contenuti di cui non hai piena autorizzazione ok ok invece c'è Luca che chiede entro quali limiti possiamo condividere o remixare opere coperte da diritto d'autore come una recensione con screenshot o estratti dall'opera o ancora una traduzione non commerciale o sempre l'uso di un personaggio di terzi ma non per finalità commerciali eh la domanda da 6 milioni di dollari perché appunto bisogna andare a vedere cioè tutte queste domande tutti questi casi che lui ha fatto hanno una risposta in un articolo di legge che dovremmo leggere e visto che dobbiamo rispondere in tre minuti a domanda purtroppo non ce la facciamo però prendo i due i due che ha fatto cioè allora innanzitutto il fatto che lui sottolinei che sono non commerciali ecco ahimè questo per come è scritta la nostra legge ad esempio non fa molta differenza cioè una traduzione di un libro no mi piace un romanzo in inglese l'ho letto oppure un manuale in inglese che qua non viene utilizzato non viene tradotto allora io faccio questa opera di divulgazione prendo lo traduco lo metto su internet no purtroppo cioè da un lato è ammirevole lo sforzo e l'intento l'intento divulgativo ma dall'altro la casa editrice non gradisce perché perché magari lo volevano fare loro cioè magari non c'è sul mercato la versione italiana semplicemente perché per adesso hanno ritenuto di non farla l'anno prossimo magari la volevano fare se io prendo di mia iniziativa diffondo la traduzione italiana magari anche fatta bene è tutto l'editore il titolare dei diritti originari potrebbe dire no questa cosa non la puoi fare perché non è stata autorizzata quindi questo è un esempio però ripeto per rispondere a tutte quelle domande bisogna andare a vedere gli articoli potete leggere anche da soli sono gli articoli 65 e seguenti della legge sul diritto d'autore italiano li trovate mi sa che è più comodo approfittare di un corso apposta oppure venire a questo non c'è credo credo che sia un po' sullo stesso campo anche la domanda di Chiara che dice vale lo stesso per chi magari prende tuoi contenuti in una lingua e li traduce o li usa senza citare o attribuire no certo perché succede più facile questo succede perché è più facile sfuggire ai controlli se io prendo un contenuto in italiano e lo ributto in un altro sito in italiano è facile con una ricerca anche su Google vedere che c'è un testo identico da una parte o dall'altra ci sono anche dei software apposta in università si usano sono dei software antiplagio che servono per vedere se lo studente nella sua tesi di laurea o tesi di dottorato ha fatto il furbo o ha scritto davvero lui visto che insomma dare una laurea a qualcuno è un passo che ha un valore anche legale bisognerebbe verificare che le tesi siano davvero originali e quindi non è difficile se io comincio a cambiare la lingua in effetti sfuggo da questo controllo automatico però la traduzione è comunque un'attività riservata al titolare dei diritti cioè la traduzione è a tutti gli effetti una di quelle che vengono chiamate in italiano elaborazioni creative o in inglese nella dizione inglese derivative works cioè opere derivate e quindi anche lì purtroppo non funziona certo ritorna a Amy e chiede con alcuni ragazzi vorremmo creare dei video per lezioni di lingua su YouTube per renderli più interessanti vorremmo inserire piccole clip di 30 secondi 30-60 secondi al massimo di film o serie tv da cui partire per spiegare le regole della grammatica come possiamo farlo senza violare il copyright esiste un ente a cui poter pagare i diritti visto che gli spezzoni video sono di casa di produzione maestria il tutto sarà scusa finisco il tutto è solo a scopo educativo non per vendere corsi e guadagnarci vedi che è lì l'errore di fondo se tutto è a scopo educativo ma io lo metto su YouTube che è una piattaforma generalista cioè non distingue quando entri su YouTube e non ti chiede sei uno studente sei qua perché ti sei iscritto al corso e quindi no chiunque una volta che sono su YouTube sono accessibile a chiunque arrivi sulla piattaforma quindi è già questo l'errore di fondo cioè voglio fare una cosa e sfruttare diciamo quell'eccezione di cui vi parlavo che è rivolta appunto ai contenuti a scopo puramente didattico sì ma deve essere a scopo didattico vero cioè faccio questa attività di realizzazione di video per poi diffonderla solo ai miei 30 studenti 25 studenti ok metterli su YouTube vuol dire che poi non sono 20 studenti ma sono N.000 cioè sono tutti coloro che passano di lì anche quelli che non hanno uno scopo didattico ma hanno uno scopo di puro intrattenimento quindi questo è già un primo errore di fondo poi capisco l'iniziativa è molto interessante e pone una serie di quesiti non da poco uno dice vabbè ma sono spezzoni di 30 secondi un minuto dovrebbero rientrare nel diritto di citazione che è una delle varie una di quelle eccezioni del diritto autore di cui ti parlavo prima è vero però YouTube su questo è abbastanza rigido cioè se io metto metto dentro degli spezzoni di non so Nothing Kill di qualche film famoso palesemente molto molto probabile che YouTube me le segnali come violazione perché anche se sono pochi secondi lui li rileva perché è un software non è che sia un essere umano e quindi me li blocca a meno che io dimostri di avere licenza per questi per questi contenuti bisogna chiedere ai titolari dei diritti loro mi chiedono c'è un ente bella domanda perché lì bisogna chiedere alle case cinematografiche ci sono degli enti che offrono delle licenze ombrello si chiamano che sono delle licenze a pacchetto per cui pago un tot e posso accedere a tutta una serie di contenuti ma temo che non siano alla portata di un'iniziativa del genere cioè costano se voglio avere accesso ai film hollywoodiani alle serie televisive quelle più famose costano molto cari e non è detto che ci siano dentro tutte quindi magari pago la licenza e non mi trovo dentro e non posso usare il film che volevo utilizzare quindi in quel caso purtroppo non rimane che chiedere al titolare dei diritti del singolo film se posso farlo e che diventa fuori portata perché insomma è un lavoro un po' un po' faticoso bisogna avere un ufficio diritti per fare una cosa del genere stiamo mostrando un po' che forse vale anche la pena di seguire un corso per evitare di doversi leggere il codice civile e la legislazione sul copyright e invece sfruttare biecamente Simone che tutte queste cose se le già lette e se le già studiate quindi arriva il momento più penalizzante per la mia scarsa destrezza che è quello di mostrarvi il codice sconto per iscriversi al corso di giovedì prossimo di Simone lo sconto è del 15% per chi non ha modo di vedere lo schermo in questo momento e il codice da usare è legal 4 digital tutto attaccato legal 4 digital per avere il 15% di sconto sul corso di Simone Aliprandi di copyright e social media in programma giovedì prossimo approfittatene anche perché non riesco due volte a condividere lo schermo di zoom senza fare qualche errore e di conseguenza ne farò ne farò uno che si chiede sotto il nome di Mario 78 ne farò uno il cui codice sarà illegal 4 digit lo facciamo di notte lo facciamo tutti con la maschera facciamo la versione illegal in cui spiego come violare il copyright non posso ovviamente è una battuta però nell'immaginario uno dice non raccontarci cosa dobbiamo fare raccontaci cosa possiamo fare per violare le norme capisco capisco l'esigenza però non se puede non se puede senti per ora abbiamo ancora due domande dovremmo quindi stare nei tempi la prima è questa in termini di design del prodotto protetto da copyright è vero che basterebbe anche solo cambiare una virgola per rendere quella protezione non più efficace ti faccio subito anche la seconda domanda perché magari si possono condensare sempre in tema di design del prodotto i file postati su google drive diventano di proprietà di google e anche lo diventano anche se protetti da copyright poi ci sono complimenti che noi non riferiamo per giusta modestia però poi potrai andare a vedere con tuo comodo e gongolare allora se parliamo di design del prodotto che è una materia che insomma mi è abbastanza vicina perché come vi ho detto io insegno nella facoltà di design proprio la domanda iniziava dicendo parliamo di design di prodotto tutelato a diritto d'autore allora parliamo quindi di quegli oggetti che sono oggetti di design ma che sono così di impatto creativo da essere considerati anche un'opera dell'ingegno come se fossero un quadro una scultura o un disegno esiste andiamo a leggere la legge sul diritto d'autore articolo 2 il caso 10 sono un elenco di 10 sito di 10 tipi di opere se è esattamente questo è l'unico caso in cui la legge sul diritto d'autore non chiede solo il carattere creativo ma chiede anche il valore artistico cioè perché ci sia tutela di diritto d'autore su un'opera di design c'è bisogno che quell'opera sia non solo creativa ma artistica quindi ci vuole una valutazione più qualitativa nel merito e se no se non c'è questo valore artistico allora io posso tutelare questo prodotto di design con un altro tipo di tutela che non ha a che fare col diritto d'autore che si chiama che è più simile diciamo a quella del brevetto cioè deposito il design e ho una tutela che dura 5 anni dalla data del deposito che posso rinnovare per altre 4 volte fino a un totale di 25 anni e quindi intanzitutto chiariamo questa cosa non credo che da come è stata posta la domanda sia chiara questa differenza quindi il prodotto di design in tutto il lato del diritto d'autore è solo quello che ha il valore artistico quindi la sedia che poi finisce nel museo al Centre Compidou di Parigi o al museo del design dell'automobile che va a finire nel museo del design dell'automobile e l'altra domanda vabbè quella è una leggendona metropolitana la sfatiamo in 3 minuti cioè il fatto di caricare un contenuto creativo su una qualsiasi piattaforma qui parlava di Google Drive ma potrebbe valere per Facebook Twitter quello che volete o Instagram non fa diventare la piattaforma proprietaria questa è proprio una bufalaccia che noi abbiamo anche lì fatto un articolo super apogeo ma l'abbiamo fatto nel 2014 2015 credo eppure come vedi siamo passati 6-7 anni ce la fanno ancora sta domani no nel senso che la piattaforma non diventa proprietaria del contenuto diventa titolare di alcuni diritti su questo contenuto fino al momento diciamo fino al momento in cui il contenuto è sulla piattaforma nel momento in cui io che sono comunque rimango il titolare originario dei diritti rimuovo l'immagine o rimuovo il video automaticamente revoco anche questa licenza al titolare della piattaforma questo è è che chi aveva letto i termini d'uso di facebook all'epoca li aveva letti erano innanzitutto quello che aveva fatto le persone che avevano fatto questi articoli e non erano dei giuristi quindi erano cadute nell'equivoco e non avevano letto con attenzione perché c'era scritto chiaramente diritti non esclusivi vuol dire che ho ceduto il diritto cosa vuol dire non esclusivo vuol dire che facebook ha un diritto che non esclude gli altri dalla fruizione di questo diritto quindi vuol dire che io rimango comunque titolare del diritto semplicemente nel momento in cui il contenuto è sulla piattaforma di facebook o su instagram quello che volete anche lui diventa titolare di alcuni diritti cioè riceve una licenza molto ampia dal vero titolare che rimango io però questa licenza io la posso revocare quindi non è vero che loro diventano proprietari sì possono farne tanti usi quello è vero possono sfruttare molto ampiamente in modo molto ampio il contenuto che ho messo sulla piattaforma questo sì intanto mi scuso con Vito che mi sono dimenticato di citare ed era l'autore delle due domande ne faccio una io che probabilmente sarà l'ultima visti i tempi che abbiamo a disposizione viviamo dentro i social media che sono invasi dai meme i meme sono cose che prendono immagini prendono cose le rielaborano poi passano di scrivania in scrivania di telefono in telefono alla velocità superiore a quella della luce come funziona il diritto d'autore con i meme i meme sono uno dei fenomeni più innovativi di questi ultimi anni e pongono una questione di diritto d'autore in effetti la direttiva la nuova direttiva quella di cui abbiamo parlato all'inizio ha una nuova norma che parla dei meme e perché pongono una questione di diritto d'autore perché io il meme il classico meme di quelli molto famosi di DiCaprio col bicchiere davanti che ride ovviamente in questo meme c'è la faccia di DiCaprio che è una persona che di lavoro vende la sua faccia il diritto di immagine si chiama quindi lui di lavoro vende quello e quindi io tutte le volte che diffondo questo meme in teoria sto sfruttando l'immagine di DiCaprio e non solo l'immagine di DiCaprio DiCaprio in quell'immagine è travestito in un certo modo sta vestendo un personaggio di un film di un regista famoso di una casa di produzione famosa quindi ci sono diritti in quella piccola immagine in realtà ci sono scampoli di diritti di tanti soggetti solo che il meme ha una palese vocazione come dire bonaria ironico non faccio davvero concorrenza al film non è che diffondendo quell'immagine la gente non si guarda più il film perché tanto gli ho fatto vedere anzi contrario col meme faccio venire curiosità e la gente va a vedersi magari il film per capire DiCaprio cosa sta facendo in quella scena però c'è un altro problema a volte il soggetto del meme non è DiCaprio non è una persona famosa a volte sono persone comuni sono foto scattate prese magari a scuola che poi diventano meme perché il tizio fotografato ce n'è una di un tizio che fa la foto in cui gli vengono tutte le vene sulla testa perché sta sforzando e viene usata per far vedere situazioni in cui uno è in difficoltà ecco quello è un tizio che dopo essere stato intervistato ha detto che avrebbe gradito che quella foto non circolasse che gliel'ha fatta un suo amico un suo compagno di scuola e lui ha scoperto dopo che stava circolando vedete questo non è tanto una questione di diritto d'autore forse più una questione di privacy perché quel ragazzo era un semplice ragazzo a scuola magari stava facendo una cosa per ridere però adesso ha tutta la sua vita segnata con questo meme cioè la gente lo riconosce per strada perché c'è sto meme e questa notorietà lui magari non la gradiva al contrario di Di Caprio che di lavoro fa l'attore e quindi no va bene che sia così e che lui venga ricordato per i secoli dei secoli per quel personaggio che ha fatto che ha vestito il ragazzo che era stato fotografato a scuola o la bambina che viene fotografata dalla mamma e poi diventa meme pongono una questione non forse di diritto d'autore in senso proprio ma più di diritto d'immagine di privacy di riservatezza perché spesso sono foto fatte in situazioni private ad soggetti privati questo è una questione che secondo me prima o poi il diritto si dovrà porre qualcuno dovrà dare una risposta ma una cosa che uso dire è che per chi soprattutto per chi se ne occupa professionalmente ma un po' per tutti forse è il caso di occuparsi del copyright prima che arrivi il copyright a occuparsi di noi nel momento meno indicato e probabilmente potrebbe essere la cosa giusta davvero approfittare dell'occasione di mettere Simone alle strette e chiedergli tutto lo scibile rispetto al copyright che poi non è abbiamo visto l'unico elemento su cui discutere in una giornata in un momento che lui dedica apposta per queste tematiche anche perché poi io stalkero Simone sui social l'ho visto su Facebook lui da viversi è concesso una vacanza nella nota capitale di una nota nazione appena uscita dall'Europa e postava un'immagine da un museo un noto museo in cui si diceva e questa è un'immagine che capita sotto gli occhi di tutti i visitatori di quel museo ti ricordi Simone? Sì 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 allora senza condividerla ma in realtà la frase è molto breve when you share an image is it still yours cioè quando condividi un'immagine è ancora tua e questo viene da un'installazione che si trova alla Tate Modern per chi non fosse pratico è quel museo che si trova a Londra sul Tamigi all'interno di una ex centrale elettrica di fronte al Millennium Bridge quindi sponda opposta rispetto alla cattedrale di St. Paul un museo favoloso come tutti i musei di Londra la città veramente divina soprattutto su quel piano lì dei musei e era una provocazione per far pensare insomma nel momento in cui io condivido un'immagine e questa era un'installazione che prendeva dei tweet da Twitter quindi insomma avevo anche capito qual è il contesto quello dei social media è ancora mia questa è la questione secondo il copyright sì nel senso ci sono vari piani come abbiamo detto l'esempio che mi hai fatto fare prima dei meme ti fa capire che quando parliamo di un'immagine se dire che è tua va a toccare più piani non è solo è tua dal punto di vista del colui che ha scattato la foto ma c'è anche colui che è ripreso all'interno della foto quindi ci sono tanti diritti e se parliamo di video ci sono altri livelli ancora perché nel video c'è il diritto di colui che ha creato il video quindi che ha fatto il regista e lo sceneggiatore ma c'è anche colui che ci recita dentro quindi c'è colui che ci presta l'immagine ma c'è anche quello che ci mette le musiche c'è quello che ha fatto gli effetti speciali la grafica e quindi è una materia complessa capisco adesso non vorrei che usciti da questa nostra chiacchierata la gente se ne esca appunto con l'angoscia dire oddio ma allora tutto quello che facevo non si poteva fare adesso chissà cosa succede no ecco non vivetela così non era questo l'obiettivo anzi alla fine vediamo che è però per avere una coscienza soprattutto per chi lo fa di mestiere quindi io mi rivolgo più che altro al social media manager al produttore contenuti al video maker avere un minimo di consapevolezza in più non guasta scusa ma di questa cosa qui parliamo giusto per fare un po' di non dovevamo dire che hai scritto un libro lo sanno già lo cercano va bene comunque insomma avete capito si è capito si vede al contrario immagino tra l'altro no almeno non sulla mia cam non so temo che su facebook si veda al contrario comunque rappresenterà rappresenterà un enigma direi che bisogna fare un grosso un grosso grazie a tutti prima di tutto a quanti hanno partecipato anche a quelli che hanno partecipato attivamente abbiamo capito che il copyright è un tema ben vivo e abbiamo capito anche grazie a Simone che ha chiarito un sacco di cose mostrando che ne esistono tante altre il copyright oltre ad essere vivo può positivamente lottare insieme a noi lui l'ho già detto il video il video rimane su facebook e quindi possono continuare a vederselo e a condividerlo visto che abbiamo parlato di share di condividere magari condividono anche il video lo vedono anche quelle persone che oggi non avevano il tempo di stare in diretta e magari comunque lo riterranno utile infatti questa chiacchierata rimane su internet invito tutti a iscriversi alla nostra newsletter perché di chiacchierate da qui quasi a Natale ne facciamo una settimana e parliamo di un sacco di argomenti sempre con i nostri autori e con i nostri docenti quindi può essere qualcosa per cui vale la pena di iscriversi a una newsletter in più se non è già stato fatto di nuovo grazie ai partecipanti di nuovo grazie a Simone il suo corso è giovedì prossimo copyright e social media come iniziare sconto del 15% con il codice legal for digital è davvero tutto buona serata arrivederci al prossimo Apogeo Live un grosso saluto e grazie ancora ciao a tutti grazie grazie